ACQUA MAIA LINAAA Nella seconda puntata di The Best, insomma quelle cose che noi apprezziamo, che amiamo veramente tantissimo. Nella seconda puntata c'era stata una clipe bellissima che mi aveva portato il bravissimo Lucky Play on tape che saluto e nel video parlavo molto del libro, del film e del disco della storia infinita. Ho pensato di fare una cosa, chi nei commenti al video della puntata numero 2 di The Best mi raccomando non sotto questo video, sotto il video della puntata 2. Allora Lucky scriverà nei commenti della puntata numero 2 il nome del cavallo di Atreiu verrà salutato da me nella puntata numero 4. Ma ora ritorniamo alla questione della puntata numero 3 che esce sabato. Nella puntata numero 3 ci sarà un altro bravissimo streamer di cui adesso vi faccio ascoltare un attimo la voce. Ciao a tutti cari amici di Svideogame, io sono... Ovviamente Yarno grazie mille per avermi chiesto di partecipare a questo video e vi parlerò dei miei best. Ecco, alcuni di voi che seguono il mio canale da tanto capiranno benissimo chi è. E vabbè, chi non lo conosce lo imparerà a conoscere e lo andrà a seguire sul sito viola, sul sito rosso, dovunque fa qualcosa. Nella puntata 3 si parlerà anche di un mostro, di un essere, di una creatura della letteratura fantastica, famosissimo, che inizia per F. F come Firenze. E poi come film ci sarà, aspettate, se vi dico... Io sono Frau Blucher! Vabbè, il cavallo non riesco a farlo bene, comunque vabbè. E vabbè, dai, comunque è uno dei film comici più riusciti della storia del cinema. Poi come disco ci sarà una colonna sonora di uno dei film horror italiani più famosi al mondo, che inizia per P. P come Palermo. Vediamo dopo se è indovinato, io vi dico le iniziali. Vediamo dopo se è in i commenti indovinato di cosa verterà la puntata di sabato. Come videogioco accenerò a due capitoli di una saga horror che, che dico famosa, è strafamosississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ È stato 11 giugno, ore 15, nuova puntata, la puntata numero 3 di The Best. Mi raccomando, guardatela che ci tengo. Ciao!